Eccomi cari amiche e cari amici, oggi vi registro un sacco di cose, proseguiamo la lettura del RACAM giugno 1975, 800 lire, da dove voglio cominciare, voglio continuare da qua, sono tornata un pochino indietro, l'estate, sì è stata un po' disagiovole questa lettura notturna, ma ero molto contenta di questo evento mattutino, di questa partenza dei Neat Cafè, è stata perfetta, cioè quando le persone vivono le cose difficilmente si concentrano, non so quello che accade, lo vivi, ma quello che è accaduto con tre persone, più chi è stato a fare colazione un po' più là, chi è venuto ma non doveva partecipare, ma ha chiacchierato, si è inserita nella conversazione e sono emersi ricordi, ci sono state delle battute simpatiche, gli omaccioni che ve lo dico a fare, un signore si è inserito nel discorso, io da piccolo facevo la maglia, facevo una catenella e poi andava avanti, ovviamente si inteneva l'uncinetto, però è stato divertente, è stato leggero, persone che io non conosco, sono una signora di vista, e cosa è accaduto ve lo racconto poi in un video proprio dedicato all'evento di questa mattina, ma voglio partire da qua, voglio partire proprio da questo titolo, l'estate ricamata sull'aiuta, ma perché? L'autunno non lo possiamo ricamare sulla juta? Vi ho fatto vedere tempo fa una pezza grande di juta che tinsi con robbia e cociniglia 800 anni fa, non ero ancora sposata col secondo marito, ma ero fidanzata e mi piersero tanto in giro in famiglia per quella mia abitudine di iniziare i lavori e poi di non finirne tutti subito, è come dire, mi davano della pelandrona, io che povera stavo in salone tutto il giorno e mi occupavo anche della mia casetta e della mia figliola, e poi tutto in tratto arrivava alla conclusione di tutto quello che era a mezzo, ma perché il lavoro manuale, quel tipo di lavoro manuale, da chi ha già impegni, scadenze, appuntamenti, come viene spesso vissuto, come l'unica, una delle poche forme di evasione, di piacere, di raccoglimento e uno dei piaceri di molte persone è anche quello di cominciare tante cosucce, sperimentare il contatto e la resa di tessuti, quando si ricama, tessuti e filati, texture diverse, merletti, non merletti, quando si fa maglia, quando si fa uncinetto, consistenze, forme, il design dell'oggetto, quante nonne non sanno di essere state delle design, mamma mia, e zie, e sorelle, e mamme, e anche qualche fratello, qualche zia, forse anche qualche babbo. Allora, perché l'aiuta? Perché l'aiuta io l'ho sempre trovato un prodotto così affascinante, un materiale affascinante, infilato e tessuto. Mi capitò quella pezza tessuta a mano, poi ve lo farò vedere, vi farò vedere le cimose, che io decisi di trasformare, ero nel momento del ricamo, del ricamo a punto croce, decisi di trasformarlo in un grande sampler. Cosa sono i sampler? I sampler sono quelle pezze che poi venivano anche incorniciate, dove le bambine, che non potevano neanche andare a scuola per lo più, imparavano a leggere e a scrivere proprio grazie alla realizzazione di questi ricami, dove si manifestava la grazia nel tenere l'ago in mano, in vari decori e nel costruire, nel realizzare un alfabeto. Vuoi stampatello maiuscolo? Vuoi in corsivo minuscolo? Belli, 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 belli. Ne trovai uno in un mercatino dell'usato, a Camilla, chissà dov'è finita quella pezzetta, nel 1888, 100 anni, di 100 anni prima la nascita di mia figlia, si vedevano gli errori, la mano incerta, come si fa a disfarsi di quelle cose, l'uso si vedeva, insomma, un po' consumatino. Venivano incorniciati, appunto, e le bambine imparavano a scrivere il proprio nome proprio alla fine di questa composizione, le proprie iniziali e poi le lettere. Non erano molto contenti in famiglia di insegnare, i babbi soprattutto, chissà perché, di insegnare alle bambine a leggere, era più un apprendimento da maschi. Però c'era anche la tradizione di ricamare le iniziali della bambina, della futura sposa, nel proprio corredo e di preparare i cartigli dove ricamare poi le cifre, le iniziali del futuro sposo. E quindi bisognava saperle fare queste lettere. E le bambine capatosta, che volevano invece imparare a leggere, non potevano andare a frequentare neanche le elementari, ecco che grazie al ricamo, ecco, poterono anche imparare a fare la propria firma, l'aiuta. E in questa aiuta, in questo grande sampler, ricamai un alfabeto in sapatello maiuscolo, dalle dimensioni diverse, incorniciate, queste lettere, realizzate in lana, una lana e cotone, con inclusioni di ciniglia di cotone. Mi capitarono per le mani tre rocche, non mi ricordo dove, alla spezia, un filato che mi piaceva tantissimo ma che riconoscevo non molto adatto alla maglieria. Poi arrivò l'idea, arrivò l'idea del grande sampler, gli lasciai due alti bordi alle due estremità, quindi verso le frange, che fermai con un ajure che si è disfatto, ne ha subite di ogni quella pezza, ve la farò rivedere. E in questi due bordi, che sono andati a contenermi il grande alfabeto, ho realizzato diversi punti ricamo, che poi avevo anche utilizzato come scuola di ricamo, anche per Camilla a casa, ma anche in bottega. In bottega io ho insegnato ad alcune delle mie clienti, quando avevo il salone, a ricamare a punto croce, ma avevo anche parlato del ricamo in generale, ne ho fatte di ogni in quel salone d'acconciatura. E quindi questo grande sampler è stato anche un'opportunità per insegnare punti di ricamo, per far vedere, per raccontare anche come è nato il ricamo. Che meraviglia! E l'aiuto poi a tutto un suo andamento, anche irregolare, un po' come certo linone, non so se avete mai sentito parlare del linone. Bello, bello, bello. E allora perché non prepararci, visto che l'aiuta è molto più facile da trovare adesso, nei negozi di bricolage, nei garden, troviamo anche dei nastri veramente interessanti, definiti bene. Ma quando ero ragazzina io, ma anche trent'anni fa, non è mica così semplice trovarlo, perlomeno a spezia, trovare l'aiuta a metraggio naturale e non tinta, assolutamente no. Quello fu uno scampolo che io ho ricavato, mi venne proprio tra le mani, non mi ricordo, guardate dove, io mi trovo delle cose che io, ma voi come ci siete arrivati a me? Sì, non si sa, però arrivano, arrivano. E poi se ne parlò molto di iuta durante gli incontri, durante alcuni incontri al bistro, nella galleria del bistro, del teatro bistro e libreria, libreria bistro, non mi ricordo mai l'ordine, del Caffeina a Viterbo. Partecipammo come gruppo, feci questa proposta, contattai Campolmi di Firenze e ci fece lui una bella proposta, che io proposi un acquisto di gruppo alle Sciure, con le quali si stava già chiacchierando di maglia, di uncinetto e di tante altre cose. Insomma, ci fu questa bella occasione, Campolmi ci fece una bella promozione, non pagammo spese di spedizione perché era un bel gruppo, ci sono state persone che di quelle rocche che è ancora disponibile di iuta, anzi c'è una proposta nuova, c'è quella colorata che ha un ottimo prezzo, una bella resa, poi ve la farò rivedere quella che acquistai quattro anni fa, cinque anni fa, quattro anni fa, sono stati quattro anni a gennaio, quindi saranno cinque anni il prossimo gennaio, no forse eravamo già in primavera. Ecco il bello di partecipare a determinati gruppi, eventi, appuntamenti che si possono effettuare dei belli acquisti di gruppo e con una bella pezza di iuta noi possiamo preparare la tovaglia di Natale, il tendone per il rustico, perde un po' di pelo l'aiuta, buona parte dell'aiuta è un po' pelosetta, il rustico, una scala, qualcosa da schermare, una scaffalatura da schermare, ma quante cose belle possiamo fare, delle tovagliette, si possono fare delle borse, si possono fare un sacco di cose interessanti con l'aiuta tessuta. E quindi come qua viene proposto il Natale, cambiando il soggetto, noi non potremmo raccontare un autunno, visto che ci stiamo proprio entrati ormai nell'autunno, ecco qua che cosa vediamo. Qui rivediamo un soggetto estivo, quindi abbiamo i fico d'India, qui abbiamo dei bei cuscini, poi abbiamo dei bei sacchetti, vediamo se riesco ad abbassarvi, magari vedete un po' meglio. Ecco, e poi abbiamo, guardate, il copriletto. Quando l'aiuta è raffinata, è piuttosto sottile, si presta anche a diventare un valido supporto per i ricami di questo genere, come coperture di letti, divani, dormeuse. E poi qua abbiamo anche l'opportunità di, ecco qui, buonasera. Abbiamo anche la possibilità, guardate un po', di utilizzare dei ricami classici del tovagliato, ecco qui, su un supporto definito proprio grezzo, come l'aiuta, ma guardate quanto è elegante. Scusate l'interruzione, mi sono anche un po' distratta e impaffinata, ma poco importa. Ecco qua, ci tenevo a ricominciare dall'aiuta per questi motivi qua, perché mi hanno fatto ricordare questi motivi, questi soggetti da orto. Ecco, qui abbiamo il cavolfiore, lui non lo so che cos'è. Vediamo un po' le primizie dell'orto. Questo è un carciofo. Perché mia nonna, nel suo quaderno dei componimenti mensini della terza elementare, con il pennino, quindi con l'inchiostro, aveva disegnato proprio gli ortaggi, aveva disegnato vari ortaggi e anche durante le varie fasi di crescita e maturazione. Ad esempio dell'uva aveva disegnato i fiorellini, poi il chicchino e poi proprio tutto il grappolo. Era veramente commovente. Il disegno ancora più affascinante, a parte il suo bellissimo cavolfiore e poi tutti gli ortaggi, fu un cavallo. Mia nonna aveva disegnato un cavallo a nove anni, che era una roba... E' sparito quel quaderno, non si sa dove finì. Ecco qui. Gli ortaggi estivi possono essere belli anche goduti in autunno. Poi c'è questo bellissimo lavoro di tessitura su telaietti chiodati, che è il primo lavoro, il mio primo approccio di tessitura è stato proprio su un telaio come quelli che si vedono in questa rivista. In Colonia, a quanti anni? Quindi nel penultimo anno avevo dieci anni. E avevo fatto la mia pezzetta, che però non si sa dove è finita. Eccolo qua. Questo è un punto di uncinetto. Quello che mi sono ripromessa è quello proprio di realizzarvi dei tutorial, dove ripropongo con materiali che ho in casa, magari anche un po' diversi e più attuali alcuni, i motivi e i progetti presentati su queste riviste che sto riportando alla luce. Eravamo rimasti appunto a sfogliare l'ultima parte che riguarda l'abbigliamento. Qui abbiamo un abbigliamento, guardate che carina che è questa canotta, com'è bellina su questa gonna a ruota quasi. I progetti sono anche tra l'altro riutilizzabili, sono assolutamente... Guardate, queste sono le canotte che piacciono a me quando non hanno il girobraccio, qui l'ascella è proprio troppo nuda. Guardate come veste bene. Qui abbiamo il golfino col motivo filet, che non è niente male. Ad esempio, questo è un golfino che viene presentato qua, viene molto utilizzata la zeffi. La zeffi è un filato in lana, 100% lana, che lo possiamo trovare a tre ma anche a quattro capi. Molto molto ritorto. Viene spesso utilizzato nel ricamo, anche nel ricamo bandera viene utilizzato la zeffi e nei ricami a fili contati. È un filato non lucido, bello forte, che andava tantissimo negli anni 60-70. I volanti, maglie volanti, vediamo un po' qua, aspettate un po', vediamo se ci dice qualcos'altro, ma ve lo scoprirò. Guardate che bellino che è anche questa canotta, la gonnina sotto, con quelle belle fantasie che io me le ricordo proprio. Ma mi ricordo questi capelli, mi ricordo le spose con i capelli così ampi, queste pettinature che venivano un po' addolcite, venivano fatte a bigodini e poi addolcite con il fond. Questo che è un modello proprio carino, che potrebbe avere la punta dietro come uno scialle, che ricorda anche un po' la liseuse, che era quel capo che non poteva mancare nel corredo di una sposa. La liseuse, che è quella che copri quella giacchina da letto, da camera, non potevi andare in ospedale a partorire senza una liseuse, senza le ciabattine pandan, senza la vestaglietta fatta così, la camicina da notte fatta cos'ha. Ecco, qua abbiamo appunto visto anche questo top, con le roselline, i punti strategici. Qui abbiamo un altro top che enfatizza le forme femminili e qui abbiamo un cardiganino proprio carino, ora che vanno molto i volumi accentuati, ecco questa maglia la potremmo anche in qualche modo rendere più, con le maniche più ricche. No, proprio, proprio anche attuale. Qui abbiamo altri, altri toppini. Oh, quanti ne ho portati di toppini così fatti a macchina da mia madre, non ve lo dico neanche. Altri toppini, poi i motivi possono anche diventare altro. Queste cintoline, questi bei capelli romantici, guardate che bellini. I primi top scollati nella schiena, con questo, il colletto un po' alla marinara, guardate che bellino che è anche sul davanti. Ecco, quello che mi piace soprattutto è che non sono sgalembati sotto le ascelle. Eccolo qua, l'altro toppino, il turbantino, la rosa da tutte le parti. E poi abbiamo tutte le spiegazioni, gli spiegoni, i grafici, piccolini. Il bac, chi se lo ricorda, il deodorante in stick, bac, mamma mia, che odori, poi forti. Creme depilatorie a gogo, l'abbiamo già vista e non si sa quante. Oh, i liofilizzati braco, io me li ricordo, i miei fratelli se li sono mangiati, i liofilizzati braco. Ecco, c'era già lo yomo, poi tutta la tv tera, guardate che erano robe serie le pubblicità. Guardate quanti, avete idea adesso quanto potrebbe costare una pubblicità che vi occupa due pagine così? Ancora, ancora creme depilatorie. All'epoca non era ancora usanza, eh. I ringo, ma quanti ce ne siamo scofanati, come vedete qua, i vari schemi. Palmolive e piatti, questo non me lo ricordo, ma questa boccettina dell'aceto ce l'abbiamo tutti, credo, quasi. Oh, mamma mia, che piatti. Proprio sporchi, proprio nel bordo, ma che ci ha fatto su quella tavola? Alla Christophe, abbiamo tutte le varie pubblicità, le prime comparsate dell'Isoform, adesso ce l'abbiamo anche sotto al letto. Ricami a fili contati, abbiamo le scuole punti, come vedete, le scuole, i fogli da ricavare e farsi un album a parte. Qui abbiamo altri prodotti per capelli, i riflessanti. Vabbè, carta igienica, vediamo l'omaccione. La carta igienica, lo strappo perfetto, era proprio un'esigenza che non vi dico. Allora, altre pubblicità, guardate qua, i primi rasoi per le donne. Qua la depilazione era una questione seria, questa qua, eh. Gli americani avevano portato questa usanza che non era proprio molto italiana, soprattutto quella della depilazione delle ascelle. Alberto Lupo, ve la ricordate la pubblicità della felce azzurra a Paglieri, quell'odore. Mamma mia, mia nonna non mi ricorreva che andavo col piumino a spargere Borotà con tutto il bagno. Puff, 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 puff. Quante niente, poverà, c'era la cascata di poi per terra. La carne in simmenta, anche questo credo che sia un retaggio un po' così, un po' sobellico. Queste blocche, fredde, pubblicità, oltre le marche, Carrare, Matta, la Brotter, Brotter, il Primaflex, il Brise, i primi anni del Brise. Ecco, questi possiamo anche andare oltre. Il vero cuoio, eh, erano gli anni poi in cui ci hanno, hanno iniziato a promuovere, a rendere riconoscibile la qualità, soprattutto italiana. Noi famosi per le nostre concerie, per le scarpe di qualità, le calzature di qualità, i materiali naturali ben conciati, ben trattati, ben cuciti e ben in forma. Il vero cuoio, il marchio del vero cuoio, il marchio della pura lana vergine. E non l'abbiamo incontrato, non me lo ricordo. Dormivo ieri sera. Ecco, mamma mia. Mia nonna invece andava matta per la Mantovani, non per la Saponetta Robert. La mia nonna a Piombino mi comprava, come arrivavo a casa, che era quella un po' più ergonomica, diciamo, come forma. La Saponetta Mantovani, perché secondo lei era più delicata. C'era ragione. La mia nonna non vedeva l'ora che io andassi a Piombino, quando ero piccina, per comprare tutti quei prodotti. L'olio, le spazzolini, i nastrini, i mollettini. E io che mi tagliavo i capelli e lei che me ne buscava. Perché diciamo, ma c'hai i capelli che lo dici a tua mamma? Mia mamma, curatevi. Guardate un po' che razza di seggiolone. Guardate un po', roba seria. Le tuttine, absorbe, me le ricordo anche queste. Il cookie, e poi, e poi, e poi. Ecco, altre proposte. I coupon, guardate, altri coupon. Che bevi, come on. Qua cosa ci vendono? Allora, tovaglia Erika Tonda, in che cosa? Copriletto, prezzo sematonale, crochet. Ma questi ne hanno già i ricami fatti. 38.500 lire. Il copriletto matrimoniale Sofia, 76.000. 4.000 lire, il copriletto. Ma da ricamarsi o da ricamato? Non si capisce. Ricami d'arte, offerta speciale, famiglia, service. Sì, questi erano i prezzi delle cose già confezionate. Non so dove. Oh, signore. Trent'anni di libertà, sì. Infatti, poi l'abbiamo finita subito. Questo è lo stesso. Parkinson, se non sbaglio, questo. Anora. Oddio. Dove sei? Ah, allora, sì. I marchi, quando hanno cominciato i marchi. Ela era Rubinstein. La scienza della bellezza. Luxottica, ecco qua. e abbiamo finito altro coupon per partecipare al concorso di pagina 42, giugno 75, la cucina povera, povera cucina. Questa non me la ricordo di marca. No. Uh, 4711, la colonia. Ma io ne ho usata un sacco. Mi piaceva un... Uh, come mi piaceva. E il napoleon? E il napoleon? E il napoleon? Chi se lo ricorda il napoleon? Che non mi ricordo il profumo napoleon di chi era. Napoleon? Mmm. Anche quello molto romantico. Che non l'ho usato? L'ho usato, sì. La freschezza del buongiorno. Guardate un po' l'asciura con i calzettoni di lana e la scarpetta sportiva. Uh? Uh, uh, un bel verdone poco appariscente. Tutti i vestiti di chiaro e le caucette verdi. Oh, oh, Carla Fracci. No, vabbè, ve la ricordate la pubblicità con Carla Fracci? Cara. Guardate com'era bella. Il sapone polvo-olive con latte e detergente. Avrei voluto vederla lavarsi la faccia col sapone polvo-olive Carla Fracci. Guardate che carina. Carla Fracci donna. E quindi la donna mette a posto i fiori nel vaso. Carla Fracci mamma. Invece va coi bimbetti. Ma lui c'aveva un maschio. Quello della bambolina. E la Carla Fracci artista. Che bella. Ecco qua. Abbiamo finito il Rackham del 1975. Come lo finiamo? Con il Linus Nib. Le mutandine. Allora, nei 75 in casa nostra queste cose non c'erano. Nel 75 i gemelli ancora, vediamo, nel 75 avevano, sono nati, allora a maggio 75 avevano due anni perché sono nati nell'aprile del, nel marzo del 73. Mi mettevamo ancora qualcosa? Comunque in casa nostra in quegli anni andavano ancora i ciripà e i triangoli. Cosa sono i ciripà e i triangoli? Come si mettono? Lo saprei fare ancora adesso ad occhi chiusi. Ve lo posso assicurare. Quanto mettere in avanti il dietro, quello poi che doveva venire in avanti, il triangolo e tutto. Poveri mammi, quanta roba da lavare. Poveri bimbi, sempre zuppi. Perché asciutti non ci stavano davvero con quei cose di cotone. Però quello c'era, quello si usava. I triangoli e i ciripà. E il coimbra? Io me le ricordo, eh. Me le ricordo queste golosità. Io, ma guarda, ma ce ne avevo perché poi me le tenevo. E queste scatole, mi ricordo soprattutto loro due. Il cagnolino, il gattino, loro due. Il barboncino, quello lì. No, questo qua, questo. Ma sì, sì, i coimbra, ma pensate un po'. Anche le dolcezze. Loro sono passati di moda, mannaggia. Ma mica da tantissimo, eh. Ciao.